Ciao a tutti, mi chiamo Gianni, sono chitarrista attualmente di Sceletus e Entairity e niente, ringrazio Christian per averci coinvolto in questo progetto All Blood e da un po' che devo fare questo video, nel frattempo che sono riuscito a trovare del tempo per poterlo fare ho visto la pagina di Christian crescere a dismisura, All Blood, ci sono tante band underground italiane che ci sono state, ci sono tuttora che meritano l'esposizione che Christian gli dà con questo progetto Che dire, ci siamo formati come Necrofash negli anni 96-97 circa quando finì il servizio militare già conoscevo Max Fragale di Gazzala Un Death Metal della Madonna, aveva molti contatti lui con anche personaggi underground dell'epoca ma grossi come Chris Reifert, con chi è con una piazzera incontra insomma, faceva un sacco di, si scriveva un sacco di lettere con un sacco di band e niente, fondamo questo progetto Necrofash l'intenzione era fare Death Metal e così fu all'inizio ci aiutò il nostro amico Alessio che suonava la chitarra, un bravissimo chitarrista, non era tuttora suonavano gli Aetred, un gruppo dell'epoca che suonavano Death Metal o melodico nella nostra zona, di cui poi alcuni componenti in seguito si unirono a Necrofash lui in quell'occasione Alessio suoni chiama la batteria e ci aiutò a fare le prime canzoni io la chitarra Max alla voce senza basso e nel tempo dopo qualche anno insomma Alessio ha ripreso i suoi impegni con Aetred e suonò con noi la batteria, entro a suonare Stefano Visentini degli Entarity storico batterista degli Entarity, che saluto, ciao Stefano con lui registrammo il nostro primo demo, che è questo Obscure Prophecies in cassetta ridiamo tutto noi, copertina, testi, canzoni, interno, esterno della cassetta questa è la foto, questo sono io, questo è Stefano, questo è Max al cimitero di Gazzala, questo è tutto, con tutti i contatti, la copertina, i titoli delle canzoni le canzoni sono Zorm of Demon, Fall into Oblivion e Worship to Rot i testi ovviamente erano contro la religione il gruppo era proprio contro la religione e niente, in quegli anni lì registrammo questo demo nel 99 al Raxo Studio di Albizzate se non sbaglio era un personaggio molto singolare, era il batterista del rondò veneziano uno molto perbene, noi eravamo metallari, c'era un contrasto visivo molto poi invece era una persona molto disponibile io registrae il basso e niente, poi in seguito Stefano ci lasciò per oggi impegni con Entarity ed entrarono a suonare con noi Matteo e Thomas con Matteo e Thomas, Matteo era il batterista allora degli Orrid dopo ho suonato un morto rigreto non ha sempre suonato, Matteo suona tuttora adesso sono io un po' fuori dai giri ma sono in un sacco di band è bravissimo, Matteo anche all'epoca ci procurò molti contatti facciamo alcuni concerti e con noi suonava anche Thomas il basso un bassista molto bravo e infatti con loro, oltre a fare i primi concerti registrammo questo CD di tre canzoni sempre demo, level underground, Temptation davanti e dietro, questo non aveva foto Beyond the Dark Star, le canzoni Temptation, Supreme Vengeance erano canzoni anche molto ispirate a racconti di Lovecraft letture che facevamo noi sempre in quegli anni lì l'Iron Tyrant ci ristampò il nostro demo, questo qui Obscure Cothesis ce lo ristampò in viene l'Iron Tyrant di Luca Marchetti che saluto grandissimo, nell'undergramme conosciuto ci fece un disco Split con gli Entrails un gruppo repubblica cieca che esiste tutt'ora e il disco uscì con un titolo diverso Ancient Gazovivo e c'erano le nostre canzoni da un lato del vinile e le canzoni degli Entrails sull'altro lato ovviamente noi eravamo molto orgogliosi perchè eravamo anche noi collezionisti di vinile eccetera Necofesh Entrails con il relativo coglietto con le foto live che facemmo in vari concerti comunità giovanile questo sono io, Max, mosciavamo molto eh Thomas, Matteo e con questa formazione cioè la formazione non è quella del demo diciamo però in quel momento avevamo quella formazione non è la ristampa quindi abbiamo deciso di mettere la formazione che esisteva in quel momento ovviamente dentro è precisato che ci suonava e chi non e niente, facciamo una data importante con i purghetori all'epoca il purghetori è un gruppo tedesco che esiste tutt'ora e loro erano in giro con un furgone a spese loro e si facevano il tour di quel disco che fece non so se è il primo o il secondo e suonammo con loro a primo per loro a Pavia al Thunder Road se non sbaglio se non mi ricordo male e fu una data molto bella i purghetori ci trattarono molto bene ci dedicarono una canzone fu una serata bella particolare e niente, sempre poi la formazione a questo demo scusate venne registrato al Compass Studio dell'epoca uno studio esistente che faceva molte bandone grande in quel momento in quei anni di Compass Studio di Gallarate furono belle registrazioni anche lì almeno rispetto a tutto quello che ho fatto prima e dopo ecco non voglio osare però era molto suonato molto bello anche questo tipo e niente, poi vabbè da altri concerti sempre nella nostra zona suonavamo con i gruppi che erano i nostri amici che ne so, c'erano i Nightward in the Trade inventari di stessi facciamo diversi concerti con loro e una volta facemmo un concerto a Carnago in un circolo c'erano allora anche i No Fight di Milano se non mi ricordo male una palata di già una band con una certa esperienza all'epoca noi eravamo alle prime anni con i The Trade anche in Nightward e andò in fumo l'impianto, le casse e tutto fu una giornata molto particolare avevamo allestito quella quella specie di circolo con mille candele e candelabri molto caratteristico abbiamo poche foto e pochissimi video ma introvabili infatti all'epoca non c'era tutto quello che c'è adesso e niente, poi dopo la ristampa delle biline, eccetera Matteo aveva i suoi impegni con gli Orid Thomas uscì dalla band aveva altri progetti un bassista bravissimo suona tuttora e si unì a noi Andrew Ed alla chitarra quindi a due chitarre e Fabio Besani alla batteria Max inizia a suonare il basso e Fabio e Andrea facevano parte degli A3 praticamente e si unirono a noi e facemmo questo CD Facuol il nostro diciamo ultimo sempre con tre canzoni all'interno di questo includemmo le tre canzoni del demo precedente così giusto per non dimenticare per lasciare la traccia in più di quello che noi avevamo fatto insomma e Facuol è stato registrato nel 2004 al Cool Life Family a Buster Sizzio che si trovava praticamente sopra la sala prove che all'epoca si chiamava Iguana Studios oggi è il Decibel e Iguana Studios abbiamo registrato da questi due ragazzi che si erano esaltati tantissimo con le nostre canzoni tre canzoni però loro facevano rap una roba del genere però apprezzavano molto questo genere e fra questi due ragazzi c'era il bassista di ancora prima di quell'epoca Dei Detesto non mi viene in mente il nome perdono Alessandro Alessandro si chiamavano tutti e due Alessandro i ragazzi che ci hanno registrato al Cool Life Alessandro Dei Detesto era uno dei due soci e mi ricordo che ci fu un bel periodo che già lui era pratico proprio di questo genere ascoltando noi si erano esaltati e abbiamo fatto un fine settimana a registrare da loro molto partecipato molto bello noi abbiamo addirittura una canzone una delle tre canzoni di Fuck You All che praticamente suono Epidemic of Terror L'Impotent Fate e Teche Lili e Impotent Fate Fede Impotente diciamo è il titolo quindi mi lascio immagini di cosa parli Alessandro l'altro ragazzo ci aveva fatto un mix dentro all'interno una roba da DJ da rap proprio una screcciata una canzone che abbiamo noi non avevamo incluso nel nel CD poi e e niente poi con loro un periodo divertentissimo suonammo ancora per vari problemi poi si unì un altro batterista insomma alla fine ci prendiamo una pausa perché avevamo troppi impegni anche con altre band eccetera che non ci permetteranno di portare avanti nei flash una pausa che dura tuttora probabilmente registrerò qualcosa quando avremo la badante fra vent'anni no scherzo niente questa è la nostra breve storia e grazie a Cristian che ci ha dato questa opportunità e ci permette di lasciare una piccola traccia in più rispetto a quello che abbiamo fatto in una pagina all blog dove spiegano anche grandi nomi quindi un saluto a tutti e grazie per la pazienza di avermi ascoltato nella nostra breve ma intensa storia dei Necofresh di nuovo grazie a tutti e buona sera da tutti a tutti